Umberto, e lo dice sempre la sentenza del Tribunale di Pesaro, ha rispettato la legge. Umberto ha rispettato la legge, mentre invece tu non hai rispettato la legge. Perché multandomi hai sbagliato. Facendomi chiudere hai sbagliato. Il dito è puntato contro il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ha sempre contestato duramente i comportamenti del ristoratore e ribello Umberto Carriera, imprenditore che aveva fatto ricorso per tutte le multe ricevute per le aperture serali fatte in zona gialla e arancione. Oggi, con una diretta social pubblicata sul profilo Facebook del movimento Io Apro, Carriera non solo ha ricordato le motivazioni della sentenza che ha dichiarato illegittimo il DPCM di Conte, perché senza nessun fondamento scientifico, ma si è anche rivolto al primo cittadino per chiedere le sue scuse. Adesso che il giudice Fabio Mazzini ha detto che Umberto non era un fuorileggio, non era un criminale, ma i criminali eravate voi del governo Conte, i criminali eravate voi a dare delle ingiuste sanzioni, delle ingiuste chiusure a tutti gli imprenditori di questo paese che hanno sofferto e che soffrono tuttora perché il Green Pass ha messo in sofferenza tutte le attività del nostro paese. Caro Matteo Ricci, perché non metti un bel post sui tuoi profili Facebook e Instagram e sulle pagine che i tuoi uomini gestiscono qui a Pesaro, dove chi di scusa? Secondo me saresti molto apprezzato. Chi di scusa perché hai puntato il dito contro Umberto sbagliando. Dovresti dirti dispiaciuto, ha proseguito Carriera, per tutte quelle aziende che hanno fallito e per tutte le persone che hanno perso il lavoro, dopodiché il ristoratore ha ribadito che chiederà il risarcimento dei danni subiti per i mesi di stop imposti dal governo, che non aveva motivato le chiusure stabilite alle ore 18 per i ristoranti, consentendo invece l'apertura, nello stesso periodo, sia delle aree di servizio dove c'era la possibilità di sedersi al tavolo, sia dei ristoranti degli alberghi. Umberto poteva aprire, Umberto doveva aprire, tutti i ristoratori hanno fatto bene ad aprire e il 99% dei ristoratori, dei bar, dei parrucchieri, degli estetisti che sono rimasti chiusi hanno sbagliato, hanno sbagliato, dovevano disobbedire, perché il DPCM carta straccia, era carta straccia e fuffa, io questa mattina ho bruciato nel camino, qui sono in uno dei miei ristoranti, tutte le multe e con tutti i soldi che ho risparmiato probabilmente mi farò una vacanza, adesso vedo come fare. Il ristoratore poi non ha risparmiato critiche per l'operato dell'amministrazione comunale, elencando alcune promesse non mantenute e le importanti occasioni perse. Ben quattro anni fa Matteo Ricci con una grandiosa conferenza stampa disse porterò a Pesaro nel 2023 i giochi del Mediterraneo, che sono un gradino sotto le Olimpiadi, quindi Pesaro, caspita, noi contentissimi, Pesaro è una piccola città con 90-100 mila abitanti, hotel, ristoranti, attività recettive avrebbero lavorato a pieno, avrebbero lavorato tantissimo. Qualche mese fa si scopre che i giochi del Mediterraneo invece nel silenzio più assoluto sono andati in Grecia, mi pare a Creta. Pesaro, candidata anche capitale della cultura nel 2024, sicuramente vincerà. Pesaro, candidata ad ospitarmi, viene da ridere, l'Eurovision Contest, anche lì bocciata. insomma, tanti annunci, tanti annunci, tanti annunci. Matteo Ricci, utilizza il tuo profilo Facebook, il tuo profilo Instagram, le interviste, i talk che ti ospitano su Rete4, dove anche lì prendi comunque sempre delle imbarcate incredibili, utilizzali per dire, caro Umberto Carriera, cari ristoratore di Pesaro, ho sbagliato, il DPCM era una merda. Io sono pronto a perdonarti, ha concluso Carriera che al termine del video ha annunciato le prossime azioni. Anche perché poi siamo già pronti con il movimento Io Apro a fare ricorso per il Green Pass, a fare ricorso per l'obbligo vaccinale, a fare ricorso per le sospensioni, li vinceremo tutti e tutte le multe andranno nel camino. Chiaro, serviranno sei mesi, un anno, un anno e mezzo, ma poi vinceremo e quando vinciamo chiederemo i soldi. Purtroppo non la pagherete mai personalmente voi, non la pagherà mai Matteo Ricci, non la pagherà mai Giuseppe Conte, non la pagherà mai il governo Draghi, però intanto qualcosa è. Matteo Ricci chiederà scusa a Umberto Carriera? Vediamo, aspettiamo, attendiamo.